Come stai attorno? C'è bisogno di te! Vedo uno dei loro soldati! Stiamo attenti! C'è un soldato! Soldato nemico individuato! Return to the combat area. Uno dei loro soldati! C'è bisogno di te, soldato! Coraggio! Laggiù! Quello è un gruppo! We have armed objective apples. Attenzione! Quello è un soldato nemico! No! Silva!